...da migranti finisce con il lancio di sassi su un'ambulanza, è successo a Pordenone, a Udine confronto sulla sicurezza, la Cavarzerani. Scende ma è ancora di grado marcato il rischio valanghe, migliorano le condizioni dello sciatore travolto ieri su Lussari. Luci e ombre sul commercio, con i saldi più visite nei negozi, ma fiducia in flessione. Crisi Eton, proposte di riassorbimento per i lavoratori. L'incrocio sulla Pontebana-Cassacco, teatro di molti incidenti, sarà sostituito da una rotonda. Oggi incontro di FWG Strade in regione. L'Udinese è aperto a febbraio con il pareggio contro il Milan. All'orizzonte altre tre sfide insidiose, Torino, Roma e Samp. Buonasera dalla redazione di Udinews e bentrovati a questa edizione serale del nostro TG. Un saluto anche a Nicola Angeli, in studio con noi per gli aggiornamenti dal web. Buonasera Nicola. E un saluto anche ad Alice Mattelloni, qui passo subito la linea per la prima parte della pagina sportiva. Buonasera Alice. Buonasera Angela, buonasera a tutti. Parliamo di questa ventitresima giornata di campionato. Iniziamo con l'Udinese. Saranno questa sera Lazio e Genova a concluderla, ma si è già conclusa invece per l'Udinese che ieri ha affrontato il Milan al cospetto di una Dacia Arena sold out. 1-1 il risultato finale con gol di Suso e autogol di Donna Roma, una partita in cui l'Udinese ha alzato decisamente il ritmo nel secondo tempo. Ripercorriamo i momenti di questo match insieme a Stefano Giovampietro. L'Udinese non si ferma anche se contro il Milan rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria a Casalinga. Partita dai due volti, quella tra i due grandi amici Oddo e Gattuso che si conoscono bene. Forse proprio la voglia del primo di sorprendere il secondo ha compromesso l'inizio di gara dei bianconeri. Assetto tattico nuovo, non digerito bene da De Pollo e Soci, Iancto spaesato, fuori ruolo e Bari centro che si è abbassato facendo il gioco del Milan. Lo stesso Oddo a fine partita ha riconosciuto come forse al momento la squadra non sia ancora pronta a metabolizzare questo cambio di assetto e mentalità. Per inciso va detto che nonostante queste difficoltà tattiche la prima frazione si è chiusa con il Milan avanti con l'unico vero tiro in porta, magistrale, di Suso e con l'Udinese vicino al pareggio almeno in tre circostanze nitide. Il ritorno all'antico e alle vecchie certezze ha cambiato totalmente volto alla gara e il Milan è rimasto inoffensivo con un Andresilva in versione ectoplasma e un Suso tornato alla normalità con il cambio di marcatura. Zampano, dirottato sulla sinistra, ha impreziosito la sua gara con un buon secondo tempo permettendo a Widmer di rientrare dopo l'infortunio. Proprio l'innesto dello svizzero e soprattutto quello di Maxi Lopez hanno infuso fiducia necessaria per trovare il pari. Trovato con la grinta e la determinazione quel pizzico di fortuna approfittando di una carambola su cui Donnarumma non è stato perfetto come lo era stato nelle circostanze precedenti su Jankto e sulla bella acrobazia di Maxi Lopez. Ci ha provato fino in fondo l'Udinese ma il pari è sembrato il risultato più giusto. Utile a dare continuità al lavoro di Oddo, sempre più prezioso, 21 punti in 11 partite, media ad altissima classifica che i bianconieri devono tentare di tenere tale anche ora che il cammino si fa in salita. E quello di ieri era decisamente uno scontro diretto fra due squadre contendenti l'Europa un pareggio che lascia dunque la situazione invariata ma saranno le gare che attendono l'Udinese in questo mese di febbraio a farci capire se il sogno Europa resterà solamente un sogno se potrà diventare realtà. A febbraio le temperature si sa sono molto basse ma per l'Udinese quello che è cominciato e che si prospetta sarà un mese torrido da vivere tutto d'un fiato. Ebbene sì perché ok la salvezza non sarà aritmetica ma è un concetto relativamente sorpassato visti gli ultimi risultati della squadra friulana. Lo sa lo stesso Oddo, lo sa il gruppo e se all'orizzonte ci sono le posizioni per l'Europa League bisogna combattere per provare a conquistarla perché il gruppo finalmente sta trasponendo in campo quella che è la grande ambizione della dirigenza e soprattutto della proprietà ma è sopita anche nei tempi più bui. Il pareggio contro il Milan se può far nascere qualche rammarico per una vittoria che poteva essere raggiunta serve a tenere compatto il gruppone in corsa per il sesto posto che a semifinali di Coppa Italia terminate potrà allargarsi anche al settimo. Il pareggio tra la Samp e la prossima avversaria Torino ha ulteriormente accorciato le distanze con l'Atalanta che ha battuto di misura il Chievo e la Fiorentina che ha espugnato Bologna. Sei squadre in sette punti per uno o due posti vuol dire doversi impegnare molto, lo hanno riconosciuto i ragazzi di Oddo ma sognare è sempre bello. Bisognerà fare molti sacrifici dice Maxi Lopez ed è vero perché la squadra è molto maturata ma dopo il Milan il febbraio terribile pone sulla strada dei friulani due scontri diretti in trasferta contro Torino e Samp. Inframezzati dal turno casalingo contro la Roma di Di Francesco non perfetta ultimamente ma sempre temibile. Se si guarda oltre poi ci sono Fiorentina e Juventus ma meglio non fare progetti a lungo termine. La trita locuzione partita dopo partita questa volta è una filosofia di vita che ci sta tutta. Si parte dal Torino lottando senza fare tabelle o guardare la classifica. Per fare quello c'è sempre tempo. Gli scontri diretti diranno molto quasi tutto di quello che l'Udinese sarà a fine stagione. E con questi primi servizi noi ci salutiamo per questa prima parte ma ci rivediamo più tardi perché dobbiamo ancora parlare di Udinese e di GSA. Lì nella cronaca. Grazie Alice noi proseguiamo il nostro OTG con un fatto di cronaca avvenuto nella giornata di oggi a Pordenone dove un'ambulanza chiamata per soccorrere un migrante coinvolto in una lite con altri connazionali. È stata presa di mira da un migrante che ha lanciato un sasso molto pesante sull'ambulanza. Abbiamo sentito anche il sindaco di Pordenone che ha parlato dell'ennesimo episodio del genere in città e ha detto anche sono al momento inascoltati gli appelli che abbiamo lanciato allo Stato e anche alla Regione per chiedere un aiuto nella gestione di questo fenomeno. Sentiamo il primo servizio di Anna Zoldan. Grave episodio verso le 13 al parco San Valentino di Pordenone dove un'ambulanza del 118 è stata danneggiata dal lancio di grosse pietre. I sanitari erano accorsi perché avvisati che in una lite tra tre uomini uno di questi era rimasto ferito. Al loro arrivo quest'ultimo avrebbe rifiutato di essere medicato cominciando invece ad inveire in inglese contro i sanitari e non contento ha pure lanciato una grossa pietra contro il finestrino lato passeggero dell'ambulanza mandandolo in frantumi. Altri grossi sassi sono poi stati lanciati contro il parabrezza del mezzo sanitario. Protagonisti della vicenda tre pakistani. Quello ferito è stato fermato dai carabinieri intervenuti subito sul posto. Uno degli episodi che si somma agli episodi che sono verificati in città nell'ultima settimana. Io commento con amarezza e con rabbia. Con amarezza e con rabbia perché da mesi chiediamo allo Stato che mantenga la parola data di rafforzare gli organici della questura e di prendere provenienti severi nei confronti di quanti vengono qui. Quello che ha fatto questo danno magari domani sarà di nuovo in circolazione. L'altro aspetto è che dovendo arrangiarci perché lo Stato non risponde. Abbiamo chiesto alla Regione di utilizzare quei 19 uomini che componevano una polizia provinciale e che qualcuno ha accorpato il corpo forestale ritenendo più importante guardare i camosci e le starne invece di controllare i parchi, di mettere a disposizione del prefetto perché ne faccia l'uso che lo tiene più appropriato, cioè magari il controllo dei parchi. Dobbiamo arrangiarci con le nostre forze. Non si era mai vista a Pordenone la polizia municipale fare arresti, cosa che invece sta capitando. Noi sindaci siamo sostanzialmente abbandonati a gestire un fenomeno enorme, complicato, con risorse limitate e senza uomini. Continuiamo a parlare della gestione degli emigranti ma da Pordenone ci spostiamo a Udine, all'ex caserma Cavarzerani dove oggi sono iniziati i lavori di pulizia dell'area esterna. C'è un comitato locale, un comitato che riunisce i residenti nella zona dell'ex Cavarzerani che chiede però anche altri interventi, una maggiore sicurezza attorno all'area. Sentiamo il servizio di Monica Nardini. Avviati in collaborazione tra Comune, Regione e Prefettura i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della vegetazione lungo il perimetro dell'ex caserma Cavarzerani. Interventi a cui si affianca il contributo di un gruppo di richiedenti asilo ospiti della struttura che accoglie attualmente circa 250 persone sotto l'organizzazione della Croce Rossa italiana. Una pulizia attesa dai residenti della zona che chiedono ulteriori interventi nell'area su più fronti. Adesso al prefetto chiediamo in primo luogo che sul bando di concorso che lui sta predisponendo venga imposto a chi lo vince di mantenere pulita l'area interna ed esterna e non come ad oggi che ha mandato la Croce Rossa, ha fatto venire fuori la gente a pulire quando non ha mai fatto. Secondo, che quella palazzina che lei vede fuori venga adibita per anziani per un punto del ritrovo che qua a San Contardo non c'è. Tra le priorità segnalate nel corso di un vivace confronto con le autorità anche il contrasto degli ingressi illegali di migranti nell'ex caserma. Nessuno ce l'ha con i richiedenti asilo. È sempre stato detto che noi pretendiamo che l'area venga custodita come stanno facendo adesso e che nella caserma c'è da solo le persone che hanno diritto a starci. Abbiamo potuto constatare, denunciato già, che delle persone che non hanno più diritto a stare dentro. Di sera entrano, scavalcano le mura senza che nessuno dice nulla perché la Croce Rossa ha detto che non hanno il personale per vigilare. Io dico in questo clima esasperato politico il perfetto e il questore che hanno la responsabilità dell'ordine della sicurezza pubblica che prendono in esame la possibilità che qualche estraneo per motivi politici potrebbe accedere per fare qualche attentato. E vediamo come replicano sul fronte sicurezza la governatrice Serracchiani e il direttore del comitato udinese della Croce Rossa italiana. No comment invece da parte del prefetto di Udine. Sentiamo. Queste paure per quanto non vadano strumentalizzate non vanno neanche sottovalutate appunto però credo che il lavoro che è stato fatto in questi anni dall'amministrazione comunale, dalla prefettura, dalla Croce Rossa ci faccia dire che insomma la situazione deve essere assolutamente migliorata ma è certamente una situazione che non può essere avvicinata a quella del folle che ha agito sparando a macerato. L'area è molto molto grande, sono 14 atteri di aria, non so quanti chilometri di perimetro. Noi quello che possiamo fare come abbiamo fatto non più tardi di ieri pomeriggio o di sabato a notte è accorgerci di tutte quelle persone, e non ce ne sono sicuramente tante, che non hanno titolo per rimanere all'interno della Cava Razzarani per vari motivi. E quello che noi facciamo è identificarli, ovvero contattare le forze dell'ordine perché li identifichino formalmente e li accompagnino fuori dalla struttura. Quindi direi che il problema a scavalcamenti esiste ma in una forma veramente limitata. Visto richiedenti asilo all'opera dunque anche all'esterno del perimetro per dare una mano alla pulizia dell'area. Sì, non è una novità, noi siamo qua dal 2015 per cui chi ben si ricorda com'era quest'area non può negare che non era sicuramente in queste condizioni. Noi periodicamente usciamo con i ragazzi per far pulire quello che forse anche loro lasciano a terra. Abbiamo sentito anche nelle parole della Presidente Serracchiani rievocare l'episodio di cronaca di Macerata, un episodio che sta continuando ad animare il dibattito politico. Nicola? Sì, c'è stato parecchio dibattito in relazione a questo aspetto anche a livello locale oltre che a livello nazionale. Hanno avuto eco le parole del prefetto di Trieste che ha dichiarato che in seguito al dibattito sorto sulla vicenda di Macerata la prefettura invita tutti a rispettare le finalità della campagna elettorale e a mantenere i toni in ambito di equilibrio e correttezza. sulla vicenda ha esternato anche Sandra Savino di Forza Italia che cosa dice? Parla di Trieste in questo caso e dice la nostra città è nata multietnica, le sue comunità vivono e collaborano in pace e tutti assieme rappresentano Trieste. Schiavone fa l'allarmista per difendere la sua rendita di posizione. Qua il riferimento ovviamente non è al prefetto, però il concetto di Sandra Savino è pacifico. Sulla vicenda c'è stata anche una dichiarazione di Giulio Lauri che è un esponente di SEL, consigliere regionale uscente, che ha ritenuto che la vicenda non fosse stata particolarmente tenuta in considerazione, che Fedriga, in questo caso uno dei nomi papabili per la candidatura a presidente della regione della Lega Nord, avesse cercato di omettere in qualche modo la vicenda di Macerata e quindi Lauri tira le orecchie dicendo che il centrodestra si è occupato poco della vicenda. Però come abbiamo visto, Sandra Savino ha esternato e detto la sua. Grazie a Nicola per questi aggiornamenti dal web. Adesso noi proseguiamo con la cronaca e parliamo del rischio valanghe che scende da forte a marcato, ma rimane comunque un grado elevato quello del rischio valanghe sulle montagne friulane. Intanto migliorano le condizioni dello sciatore travolto e ferito ieri sulle nevi del Lussari. Il punto nel servizio di Davide Zanirato. Sono definite stabili le condizioni dello sciatore di 44 anni, Gino Kaidish, residente a Tarvisio, travolto ieri da una valanga sul monte Lussari a Camporosso. L'uomo è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato elitrasportato in mattinata. È in prognosi riservata, ma al quadro clinico sarebbe in miglioramento. L'uomo era stato travolto dalla valanga mentre faceva free riding a poca distanza dagli impianti di risalita della Miss Conca Limerza a quota 1600 metri. Dotato di apparecchio ricetrasmittente Artva, è stato prontamente estratto dal cumulo di neve dai tecnici del soccorso alpino di Cave del Predil. Un'escalation a quella delle valanghe sulle montagne del Friuli che era stata prevista. Il grado 4, quindi forte, nella zona orientale, Alpi e Prealpi Giulie, era più che motivato da quell'intensa nevicata, circa un metro e venti, un metro e trenta di nuova neve. Grado 4 non significa necessariamente l'esclusione di attività, ma una scelta oculata e molto esperta dei percorsi fattibili. E per i prossimi giorni è sceso a marcato, grado 3 su scala 5, il pericolo di valanghe in Friuli Venezia Giulia. L'invito che arriva dai previsori è quello di continuare a fare massima attenzione. L'intensa attività valanghiva ha sicuramente bonificato una serie di pendili, ma non tutti, anzi, molta parte, in particolare quelli con meno neve, meno carico, sono ancora lì presenti. Il vento li ha stabilizzati per quanto riguarda il distacco spontaneo, ma sicuramente non per il distacco provocato. E quindi resterà un problema molto diffuso di distacco provocato, quindi un grado 3, che richiede un'attentissima valutazione dei percorsi, sia in salita che in discesa, fuori dagli ambiti controllati. E proseguiamo con la cronaca, andiamo a vedere le notizie principali di oggi nel servizio di Luciano Idelfonso. Vediamo. Un uomo di 49 anni, residente a Udine, è stato arrestato la scorsa notte dopo aver forzato un posto di controllo dei carabinieri, urtando un militare con lo specchietto della vettura. L'episodio è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza nella zona della stazione di Udine, in piazza Unita d'Italia. Impegnata in un servizio di controllo del territorio, la pattuglia dei carabinieri ha intimato l'alto una Fiat Punto con a bordo due persone. Anziché fermarsi, il conducente è accelerato e dopo un breve inseguimento nelle vie del centro, in via Cisis, l'uomo ha abbandonato l'auto e ha proseguito la fuga a piedi. Raggiunto il 49enne, in evidente stato di ebrezza, si è scagliato contro i carabinieri, rifiutando l'etilometro. Dai controlli è poi emerso che guidava con una patente smarrita ma revocata. Le accuse sono di resistenza e lesione a pubblico ufficiale, falso ideologico e guida senza patente. Un cittadino albanese di 29 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Udine dopo essersi scagliato contro gli operatori sanitari del pronto soccorso che stavano curando la moglie. La donna si era arrecata nella struttura a causa delle percosse ricevute dal marito. L'uomo è andato in escandescenza e si è scagliato contro un'operatrice socio-sanitaria. La donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Il 29enne si è quindi dato la fuga ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri nella sua abitazione dove è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina. Lì ten un barriere in otto a Cividale del Friuli a provocarla due giovani rispettivamente di 19 e 20 anni che vivono a Portuguaro in una cittadina della provincia di Pordenone. I due ragazzi sono stati cacciati dal locale ma il titolare dell'attività è stato costretto a barcarsi insieme ai clienti presenti nel locale per evitare che succedesse il peggio. Una volta fuori dal bar infatti i due giovani hanno iniziato a prendere a calci e pugni la porta urlando minacce. Sul posto è intervenuta la polizia che li ha identificati e ha emesso un provvedimento di allontanamento per due anni dalla città di Cividale. Adesso torniamo a parlare di politica perché oggi c'è stata la presentazione dei candidati di Fratelli in Italia. Nicola. Eh sì Angela perché oggi a Palazzo Keckler qui vicino alla nostra redazione c'è stata la presentazione dei candidati per le elezioni nazionali del 4 marzo di Fratelli d'Italia con il coordinatore Scocci Marro con vedete nelle immagini ciriani vedete Walter Rizzetto che hanno palesato la loro candidatura chiarito quello che già si sapeva perché le liste erano già state depositate qui vedete anche il coordinatore udinese di Fratelli d'Italia che è Ugo Falcone che ha presentato eh diciamo la squadra per eh quelle che sono le prossime elezioni eh politiche facendo riferimento ovviamente a quella che è la leader eh nazionale Giorgia Meloni. E torniamo adesso a parlare di economia in questo caso perché oggi gli esercenti del Friuli Venezia Giulia hanno presentato gli ultimi dati sull'andamento del settore hanno evidenziato un leggerissimo incremento del numero di visite nei negozi in occasione degli e saldi ma la fiducia per il prosieguo di questo 2018 è in flessione. Marchiori presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia ha detto che l'incertezza sul quadro politico è un fattore di freno. Sentiamo il servizio di Davide Zanirato. Presentata oggi a Udine l'indagine congiunturale sul quarto trimestre 2017 commissionata dalla Confcommercio FVG e illustrata dal direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani. Ancora luci e ombre per il settore. Il 2017 in termini di saldi, aperture e chiusure di imprese si è chiuso con un saldo negativo ma è un saldo negativo anche in termini di andamento economico soprattutto settore che tiene testa sotto questo profilo è il commercio, il retail tradizionale mentre si salvano il turismo e i servizi. L'outlook per i primi mesi del 2018 evidenzia una fisiologica flessione giustificata in parte dalla stagnazione dei consumi che rallenta il ritmo di crescita dei ricavi. Ma secondo il presidente di Confcommercio FVG Alberto Marchiori c'è tuttavia il fattore legato alla situazione politica ad incidere. Le prospettive per il 2018 vedono i nostri imprenditori molto meno ottimisti di come lo erano perché è vero che i saldi non erano entusiasmanti almeno nel 2017 però almeno c'era una carica di ottimismo. Io sono convinto che faccia da deterrente le imminenti lezioni politiche in questo caso per noi sono sia nazionali che regionali e questa grande incertezza sul governo del paese. In questo caso più che una ricetta c'è una battuta, cioè la battuta è forse se succedesse quello che è successo in Belgio e in Spagna dove quando non sono riusciti ad avere un governo hanno avuto il miglior governo del paese potrebbe essere una ricetta. La ricetta per tentare di invertire la rotta e accompagnare la lenta ripresa l'ha illustrata il vicepresidente della regione Bolzonello. Cercando di aiutare i piccoli negozi, cercando di creare animazione nei centri, creando di portare più gente possibile nei centri storici e questa è l'unica ricetta. Continuiamo a parlare di economia del mondo del lavoro in questo caso perché alcune aziende friulane si sono fatte avanti per il riassorbimento di parte dei 200 lavoratori della Eton di Monfalcone. Ad annunciarlo il sindaco della città dei cantieri, Cisinte, che auspica comunque che regione e ministero facciano il possibile anche per il coinvolgimento della Fincantieri nella ricerca di una soluzione. Sentiamo l'intervista al sindaco di Monfalcone realizzata da Francesca Santoro. Attribuisco tutto all'azienda che con una responsabilità sociale inesistente ha dimostrato veramente un comportamento di irrispettosità anche nei confronti di un intero territorio. Per cui sono convinta che l'opzione 1, ovvero il mantenimento del sito e dell'attività, sia ancora da perseguire ma lo può fare soltanto il ministero. Ho però percepito la poca autorevolezza che il nostro paese ha nei confronti di queste situazioni. È anche molto importante però cominciare seriamente a ragionare sulle ricollocazioni per i casi possibili. Sto interloquendo anche con delle aziende che mi stanno contattando, in particolare alcune aziende friulane che intendono utilizzare le belle professionalità che stanno all'interno di questa azienda. Io credo che sia molto importante che sia vi questa interlocuzione del ministero, della regione nei confronti di Fincantieri. Dal mio punto di vista questo accordo dovrebbe rappresentare la possibilità per il nostro territorio di lavorare. Non è possibile più ormai sopportabile accettare che arrivino persone a lavorare da fuori quando questo territorio piange perché non ha la possibilità di farlo. Quindi un accordo, un tavolo serio perché si ragioni sullo sviluppo economico dell'Isontino e su tutte le persone, che sono tante, che oggi possono ancora dare al mondo del lavoro qualcosa. Da Muffalcone adesso torniamo in montagna perché ci sono notizie positive in questo caso per l'economia. Nicola. Sì, dati buoni, abbiamo dato delle notizie diciamo poco positive di economia. Veniamo invece con un dato buono, ce lo dà Paola Schneider di Federalberghi FWG, che dice bene il turismo nelle località montane in crescita rispetto allo scorso inverno. Andiamo a vedere un po' di dati. Nel Tervisiano quasi 20% in più di turisti. Il trend è positivo anche per la Carnia, dove lo Zoncolan continua a essere un punto di riferimento per gli sciatori, quindi ogni tanto anche una notizia buona in questo senso. E ci sono notizie positive anche per gli abitanti della zona di Cassacco, perché è in arrivo la rotonda al posto del semaforo che si trova sulla Ponte Bana. Un incrocio spesso teatro di incendi che ora sarà finalmente messo in sicurezza. Oggi c'è stato un incontro in regione con FWG Strade, che ha messo a punto la tabella di marcia per la realizzazione di questo importante intervento. Ci dice tutto Luciana Idelfonso. Dopo anni di attesa, uno dei punti più pericolosi della Ponte Bana, lungo il tratto che collega Gemona a Udine, sarà finalmente messo in sicurezza. Parliamo dell'incrocio all'altezza del comune di Cassacco, per l'esattezza al chilometro 143, all'intersezione con via Montagnacco e via della stazione. che negli ultimi anni è stato il triste scenario di diversi incidenti stradali, molti dei quali con feriti gravi. A tal proposito, l'amministrazione comunale di Cassacco aveva già preso alcuni provvedimenti a partire dal 2015, installando lanterne semaforiche e lampeggianti per segnalare al meglio l'incrocio, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale. Interventi utili ma non risolutivi. Per trovare una soluzione questa mattina si è tenuto un tavolo tecnico tra l'amministrazione comunale e la regione e i tecnici di FVG Strade, da cui arrivano buone notizie. Questa richiesta di interventi è nata da un comitato proprio di cittadini che a gran voce hanno richiesto la messa in sicurezza dell'incrocio. Incrocio che vedrà l'installazione di semafori intelligenti, semaforo che sarà sempre verde per la gente che circola sulla statale, ma una volta rilevato il peso di autovetture che dovranno attraversare la strada statale, quindi arrivando dalla strada provinciale, diventerà rosso e permetterà in sicurezza il transito di queste autovetture. Un primo importante passo per mettere in sicurezza l'incrocio a cui seguirà un'opera, si spera risolutiva. Sì, sicuramente nel giro di qualche anno l'idea della regione di Strade FVG è quello di attuare e concludere la variante di tricesimo, che dovrebbe appunto culminare con l'installazione, la creazione di una rotonda proprio sull'incrocio famoso. Urgono invece lavori di altro tipo su una via del centro di Udine. Nicola, raccontaci tutto. Sì, andiamo in via Battisti, oggi succede tutto nei dintorni della redazione. Perché cosa è successo? Chi frequenta il centro città ha potuto appurare che stamane si è rotta una tubatura dell'acqua e quindi la via è stata, diciamo, invasa. Beh, non esageriamo, insomma, vedete le immagini, le testimoniano. C'è il corso, un piccolo fiumiciatolo, un piccolo ruscello lungo la via. Il Kafka ha fatto sapere che i lavori di sistemazione di questo danno verranno effettuati domani dalle 9 alle 12 e in quella fascia oraria verrà anche sospesa l'erogazione dell'acqua per forza di cose per svolgere i lavori al meglio. Parlavamo prima di notizie positive, Angela. Ne abbiamo un'altra che riguarda i temi della sanità. Che cosa è successo? Oggi il sito deathmorning.com, che si occupa di rilevazioni in ambito sanitario, ha stabilito che l'ospedale Santa Maria della Misericordia è il migliore ospedale in cui ci si possa curare a Udine e in provincia di Udine e soprattutto è il miglior posto in Friuli Venezia Giulia assieme ad altri ospedali in Italia che sono ai vertici di questa particolare classifica dove poter curare il tumore della pelle che è uno dei tumori più diffusi in tutto il nostro paese. Mi pare rappresenti il 15% delle patologie complessive di questo genere e colpisce più gli uomini che le donne. Viene attribuito un punteggio di 8.1 e ci si chiede come viene stabilito 8.1. Allora andiamo sempre su il sito deathmorning. Come vengono calcolati i voti ce lo spiegano. Dice analizziamo i risultati clinici degli ospedali, le pubblicazioni scientifiche, il profilo professionale dei medici e le notizie di cronaca per elaborare valutazioni basate esclusivamente su dati statistici. Quindi una valutazione proprio scientifica non potrebbe essere altrimenti per un centro di scienza come l'ospedale Santa Maria della Misericordia. E noi cambiamo argomento, adesso parliamo di spreco alimentare perché oggi si celebra la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare istituita dal Ministero dell'Ambiente e Monica Nardini è andata a raccogliere un po' di opinioni tra gli udinesi per cercare di capire quanto cibo sprecano. Sentiamo. Lei che posizione ha rispetto allo spreco alimentare? Sono degli argomenti che vengono diffusi come moda e con questi si diffonde un certo modo di parlare. Per me non credo che esista. La gente ha pochi soldi e con quei pochi soldi cerca di mangiare. Col mangiare io non putto via niente e quindi ritengo che c'è anche la gente viziata e tende a mangiare cose non sane e viene sprecato tanto, tanto, tanto. A casa nostra non ci sono mai resti perché io ho due figlie che mangiano per quattro di conseguenza si fanno le quantità giuste insomma. L'ha educata anche lei bene nel senso di non sprecare? Certo, sì, sì, sì. Siamo molto attenti a quello che compriamo e a quello che consumiamo perché non ci piace lo spreco. Avete delle strategie per la preparazione dei pasti? Conosciamo abbastanza bene le quantità che riusciamo a consumare e anche la spesa la facciamo poco per volta proprio per evitare di avere un eccessivo accumulo di alimenti in casa. Io non spreco niente, riutilizzo tutto, riciclo tutto quello che trovo e se avanza qualcosa si utilizza per fare qualcos'altro. Non si butta niente? No, se è possibile no. E ancora qualche dato dal web sullo spreco alimentare, Nicola. Sì, Angela, siamo su quotidiano.net che ci racconta che vengono buttati 37 chili a testa ogni anno di alimentari ma lo sperpero è dimezzato, quindi una notizia negativa ma al tempo stesso una positiva che ci fa capire che la cosa è diminuita rispetto agli anni precedenti. Invece se andiamo su Io Donna, che cosa è successo oggi? Un appuntamento importante per quello che riguarda il costume che è stato presentato il Festival di Sanremo. Il direttore artistico dell'edizione 2018, come lo sapete, è Claudio Baglioni che presenta la manifestazione assieme in questo caso con Michel Unziker e Pierfrancesco Favino che sono le stelle almeno a livello di presentazione del Festival della Canzone Italiana. E anche noi, Nicola, daremo spazio al Festival di Sanremo nel nostro TG delle 19 perché da mercoledì ogni sera ci sarà una pillola dedicata al Festival di Sanremo con il commento di Giampaolo Polesini. Vediamo. Vi aspetto dopo il TG delle 19 per le pillole di Sanremo per parlare o sparlare del Festival della Canzone Italiana da mercoledì. Vi aspetto. E dopo gli spettacoli lo sport allora la linea va di nuovo ad Alice Mattelloni Grazie Angela. Torniamo a parlare di Udinese in questo caso di Giovanini perché passiamo dallo spettacolo in questo caso di Sanremo allo spettacolo che hanno dato sul campo i ragazzi più giovani bianconeri perché quattro sono state le formazioni impegnate nei rispettivi campionati nazionali quattro sono state le vittorie dalla formazione Primavera 1 agli Under 15. Allora al servizio di Lorenzo Pausa Un weekend tutto sorrisi per le giovanili dell'Udinese dalla Primavera 1 agli Under 15 le quattro formazioni impegnate nei campionati nazionali rispondono tutte presente all'appuntamento con i tre punti un filotto che rispecchia il percorso di costante crescita intrapreso dai giovani bianconeri dall'inizio della stagione per la Primavera di Giulio Giacomini quello sul Napoli il secondo successo consecutivo dopo lo 0-2 sulla Lazio fondamentale per distanziare la zona playoff ora a meno 7 ma soprattutto per ritrovare la vittoria in casa dopo più di due mesi in un match lungo condotto dall'Udinese sul piano del gioco si rivela decisiva al 17esimo della ripresa l'incursione di Varesanovic che raccoglie l'assist di Bocic e deposita alla destra di Scheper pur perdendo pezzi grossi del calibro di Mallejadi i friulani riescono a trovare soluzione alternativa in fase di finalizzazione e fanno così loro un altro scontro diretto nella lotta per non retrocedere vittorie altrettanto importanti anche per le altre giovanili tutte in lotta per il quinto posto che significa playoff a Ferrara gli under 17 beneficiano ancora delle giocate della puntali russi autore della doppietta che consente all'11 diametrano di imporsi per 2-1 sulla spalla il doppio confronto col Brescia nelle categorie under 16 e under 15 si risolve invece con un 2-0 per i 2002 di De Biagio che trovano il primo successo del 2018 e con un 3-0 per i 2003 di Zompicchiatti capaci di ottenere ben 27 punti negli ultimi 13 incontri e può gioire anche la GSA che ha battuto il rosetto Sharks per 80-70 unico appunto una difesa che risulta nettamente indebolita con una prestazione ricca di punti di domanda la GSA riesce ad ottenere il massimo risultato ovvero battere rosetto e rimanere agganciata alle posizioni di vertice complici le contemporanee sconfitte di Monte Granaro Ravenna e Mantua ma il successo oltremodo sudato sugli Sharks non cancella il periodo di involuzione da parte della compagine di coach Lardo se fino a questo punto della stagione era stata la difesa la vera arma in più dei bianconeri ora sono troppe le triple rimbalzi facili concessi alla squadra avversaria mentre in fase offensiva continua l'imprecisione nel tiro dalla distanza difficile giustificare un 5 su 24 da 3 con le sole assenze di Benevelli e Pinton per quanto si tratti di due cecchini spesso risolutivi dall'altra parte una squadra quella abruzzese concreta e coriacea a dispetto dell'ultimo posto in classifica una squadra che segna 43 punti prima dell'intervallo e che scappa fino al più 12 di inizio terzo quarto il risultato comunque si guarda alla fine e Udine lo ha ribaltato con un colpo di Reni nel finale un 14 a 0 di parziale che ammazzerebbe per l'appunto anche uno squalo e che ha visto protagonisti Rain Weidman Chris Mortellaro e un Franco Busciati che conquista i supporter friulani nella sua prima al Carnera scampato pericolo ma mercoledì sarà già la volta del secondo atto casalingo serve un atteggiamento del tutto diverso per non correre gli stessi rischi anche contro Orzinuovi Gara contro Orzinuovi che seguiremo mercoledì sera su Udinese TV con una puntata di studio e palazzo mentre questa sera alle 21 Udinese Tonight per approfondire Udinese Milan linea voi Angela grazie ad Alice Mattelloni grazie anche a Nicola Angeli buonasera Nicola grazie a tutti voi che ci avete seguito e ovviamente l'invito è quello di rimanere in nostra compagnia per trascorrere assieme anche la serata di oggi buonasera a tutti grazie a tutti